Per il momento, oltre alle due grandi città del sud guidate da sindaci progressisti, Luigi De Magistris a Napoli e Leo Luca Orlando a Palermo, la questione in Sicilia è stata posta apertamente dai sindaci di Siracusa e Catania, due città sul mare aventi caratteristiche simili sul piano geografico, ma cui i sindaci la collocano su posizioni opposte. Per Francesco Italia, la città di Archimedia ha una vocazione turistica che la apre agli stranieri, e tali sono gli immigrati, quindi in alcuni punti il cosiddetto decreto sicurezza non va bene e la questione va posta in ogni sede possibile. Da Catania, invece, Salvo Pogliese non solo riconosce pienamente la legittimità della nuova normativa, ma ha appena prorogato la famosa ordinanza antibivacco che tante critiche e proteste aveva suscitato dopo la prima emanazione. Certo è che il braccio di ferro proseguirà e non si giocherà solo sul terreno normativo e giuridico. I temi sono troppo caldi e sentiti per non alimentarne uno scontro politico fino alle europee, ma in ogni comune, anche piccolo, i sindaci devono valutare il da farsi. Nella realtà iblea, terra di frontiera e di approdi soprattutto a Pozzallo, non ci sono ancora prese di posizione chiare e nette. Il sindaco Roberto Ammatuna ha lasciato intendere di avere in Giorgio Lapira e nella Costituzione il proprio pantheon di riferimento, ma tradurne i principi in azioni concrete non è sempre agevole, quindi siamo nel pieno del dibattito. Spicca nel contesto l'iniziativa del segretario della CGL Giuseppe Scifo, che lancia un appello a tutti i sindaci della provincia, perché seguono l'esempio di Orlando, De Magistris, ma anche dei sindaci di Parma e Bologna, mettersi dalla parte della Costituzione. Grazie a tutti.